Rexha, che ora è? E' l'ora di fermare Ah, ci è stato un torneo questo weekend per quanto riguarda il faro ludico Un torneo un pochino particolare Perché tipi e attributi dei mazzi che dobbiamo utilizzare sono stati letteralmente estratti a caso Un torneo online, non vi preoccupate E quindi dal momento che ho visto che era così particolare questo torneo Ho deciso di portarvi questo video dove sostanzialmente vi racconto Cioè non vi racconto, vi faccio vedere a tutti gli effetti come è venuto il torneo Però facendo un attimo montaggio particolare insomma In ogni caso il tipo e attributo che mi sono stati estratti completamente randomicamente Sono... parliamo di attributo acqua Tipo... Sai verso Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Tonight E benvenuti in questo nuovo video sul torneo del faro Ma quanto cazzo è alto sto volume? Sì, infatti l'ho passato Benvenuti, benvenuti Benvenuti Ma vai a cagare, Capuano Ogni volta contro di te Ciao Cesare Oggi ti va proprio bene che sto giocando con le pippe Con le pippe Sono proprio pippe Che cazzo ti è capitato, scusa? Lascia stare, non te lo dico Grazie a tutti Pagato, quindi paghi mille? Sì, certo Togliti i mille di costo Tua Mia Ti posso giocare questa? GG, dai Targetto Sea Horse E lo evo con la zona puntata E in catena io faccio... Aspetta, aspetta, aspetta Ah In catena faccio... In catena cosa? All'effetto di Coral Anemone Ah, quindi effetto Coral Anemone, sì, in catena? Sì, in catena Teardrop Detaccio E targetto Coral Anemone per tributarlo Roberto Vieni a voi, sì, yes Roberto Ah, la mina non ti attive, no Osti, tu? Eh, come ti stai trovando con gli scupper shot? Madonna santa, ma come si fa a giocare sto schifo? Beh, però il gioco era un botto di tempo, altro che... Eh, ripeto, i mazzi vanno a chi ha le potere? Perché sto mazzo, se vedi tre mostri in mano, hai verso... È un punteggio, ci sta una classifica su sto sito Eh sì, ma 100-0 100-0 100-0 Ogni vittoria che hai, mi pare, ti danno un tot di punti Sì, sì Ma vorrò col due Che cazzo Stiamo continuando a giocare a sosta corto e forbici, Simo, vai, vai Vabbè, vi siete trovati, quindi, ok Sì, sì, sì Oh! No, non è apposta, non ci saremmo riusciti No! Non ci credo No, non è apposta Ehi, se... se lo fai di... Ah, ma ecco che... Che cazzo, vado Che mi dici di questa esperienza, di questo torneo? Ah, che cosa ti devo dire? Un mazzo tremendo Un po' come tutti Ho capito, però È diverso da un mostro che puoi evocare Ad un mostro che richiede tre tributi per essere evocato E lo hai l'80% del mazzo Tu, a te è capitato Divinità Porca troia! Quindi fai tu, quindi, ti ho detto Divinità bestia Come cazzo? Sono solo le tre divinità egizie Senti... Doberisco può essere targettato? No O Ok comunque una l'ho persa e una l'ho pareggiata Silenzio Ah tra l'altro che cazzone